No, è veramente un palazzo staccato, come diceva il collega Labate, il ministro dell'Expo, siete i ministri dell'Expo. E oggi questo palazzo vattato, dormiente, in un momento in cui Lupi ancora non si è dimesso, nonostante dei suoi, dei vostri funzionari si siano rubati l'inverosimile, ladri, ladri di quattrini, di futuro, si parla di mettere una tassa ai contadini limo agricola. L'anno, presidente dell'Expo, altra opera che avete voluto soltanto voi, perché gli amici vostri ci devono rubare i quattrini nostri. Questa è la Repubblica, piazzano le tasse a contadini che devono pagare su terreni agricoli e si rubano l'inverosimile grazie a funzionari e boiardi di Stato che sono più casta di voi. Questa è la Repubblica italiana. Grazie, presidente.